Una cittadina rumena di 35 anni, residente in Abruzzo, è stata denunciata in stato di libertà dal personale della polizia del commissariato di Urbino per il reato di furto aggravato. Il fatto risale alla settimana scorsa, quando un agente, libero dal servizio, si trovava all'interno di un centro commerciale di Fermignano. Il poliziotto è stato avvicinato dal titolare, il quale gli ha segnalato la presenza di due donne riconosciute dai filmati del sistema di videosorveglianza come autrici di un ingente furto di merce, consumato nel precedente mese di settembre. In particolare, le due donne, con una tecnica ormai collaudata, erano riuscite a deludere il sistema antitaccheggio e a sottrarre numerose confezioni di prodotti per la cura e l'igiene personale, per un valore di oltre 700 euro. Il poliziotto ha così bloccato una delle due sospettate, una 35enne di cittadinanza rumena, mentre la seconda è riuscita ad allontanarsi. Sono in corso indagini da parte degli uomini del commissariato, finalizzate alla sua identificazione. La 35enne, già nota alle forze dell'ordine, è stata denunciata in stato di libertà all'autorità giudiziaria e proposta al questore di Pesorubino per l'applicazione della misura di prevenzione del divieto di ritorno in questa provincia. Grazie. Grazie.